ciao e benvenuto in questo piccolo video oggi andiamo a parlare di come funziona un server dns e le differenze tra google dns e cloud fair chi è migliore allora innanzitutto una piccola overview su come funziona un server dns quindi ancor meglio quando noi proviamo ad aprire una pagina google.com bbc qualsiasi sito cosa fa il nostro device bene il nostro device non fa altro che richiedere a un server dns quindi in questo caso per esempio 8.8.8 che indirizzo ip a google.com il server dns ti risponde con un indirizzo ip che in questo caso è quello che vedi nello schermo se tu provi a fare un ns look up dal tuo computer dipende in che area geografica del mondo ti trovi molto probabilmente l'ip è diverso perché i dns sono anche basati sull'area geografica che questo però è un altro discorso che richiede maggiore approfondimento quindi una volta che il mio computer sa che google il sito google ha quell'indirizzo ip il mio computer invia un'altra richiesta a quell'indirizzo ip chiedendo la pagina di google ora i server dns sono sparsi un po in tutto il mondo infatti io mi trovo qui qui piccolino ecco qui qui ci sono io e chiaramente come è logico pensare più un server dns vicino è meglio è ora i server dns sono influenzati da diversi fattori per esempio la distribuzione mondiale la velocità delle reti internet con i quali server si interconnettono la velocità del server stesso eccetera eccetera quindi per esempio google è abbastanza distribuito in tutto il mondo e per questo si ritiene che sia migliore rispetto per esempio a un server dns del proprio provider adesso andiamo a vedere le differenze principali che ci sono tra google dns e cloud fair queste sono alcune che io ho scelto in quanto ritengo come dire più importanti ma ce ne sono molte molte altre il primo è la privacy ovviamente cloud fair offre impostazioni di privacy avanzate che mascherano efficacemente i dati dell'utente finale google dns condivide i dati dell'utente finale con i suoi inserzionisti partner come adwords e double click dopo ti farò vedere un la dashboard la console di cloud fair e come google stabilisce se tu sei più una persona che gli piace per esempio vedere film piuttosto che informazioni sulla finanza poi abbiamo la velocità cloud fair è il provider dns più veloce google cloud quindi google dns è più lento rispetto alla velocità di cloud fair dns poi abbiamo la popolarità cloud fair è il servizio dns più popolare al mondo google dns è il secondo provider dns più popolare al mondo server nel mondo di google e di cloud fair i server di cloud fair sono presenti in quasi tutti i paesi del mondo google dns opera tramite servizi centralizzati poi abbiamo la sicurezza introdotto il protocollo tls da cloud fair e attualmente è uno dei provider dns più sicuri google ha adottato il protocollo tls dopo che cloud fair lo ha introdotto alcune caratteristiche interessanti sono che per esempio cloud fair usa servizi cdn la protezione sugli attacchi di dos e un web application firewall insieme a un protocollo di configurazione semplice google è affidabile personalizzabile e utile e ovviamente ha una facilità di servizio forse maggiore un'altra caratteristica di cloud fair è che il suo servizio dns è disponibile anche per i client tor la rete tor e il browser tor forniscono un anonimato molto maggiore online garantendo una maggiore privacy durante la navigazione in internet un altro motivo per scegliere cloud fair è che offre app e software dedicati che si possono scaricare da https 2.1.1.1.1 un'altra cosa che ti voglio far vedere è la console di cloud fair in questo caso è la console di zero trust che si può accedere sempre ovviamente facendo login su cloud fair.com questo è il grafico del mio dns request per esempio qui si nota che io ho acceso il computer ieri alle 3 e c'è questo picco perché tutti i servizi partano quindi c'è tutte le interazioni le richieste del computer per poi finire verso le 10 e 30 che ho spento il computer poi c'è alto traffico altre richieste pochissime perché c'è alexa c'è la lampada wifi eccetera eccetera il condizionatore poi dopo questa mattina ho acceso il computer e ci è un'altra volta questo picco come ieri fino a che il traffico non siamo normalizzato fino adesso ora che cosa vediamo qui cosa possiamo vedere su gateway vediamo che ho 327 richieste del dns queste sono alcune richieste perché view all me le fa vedere tutte e ovviamente le richieste a differenza di google non vengono memorizzate poi qui ho le categorie dove io maggiormente interagisco quindi technology per il 67.28 per cento entertainment business economy society and lifestyle internet communication poi dopo io al momento uso il uso entrambi uso sia il dns di cloud fair che è 1.1.1 più quello che cloud fair mi suggerisce che è più vicino a me se io vado su location valerio home vedi che cloud fair mi suggerisce mi consiglia questi due indirizzi p che sono quelli più vicini a me secondo cloud fair se tu vuoi utilizzare cloud fair come ho fatto io basta andare sul proprio router e di qui tramite dhcp impostare il dns di cloud fair che come vedi io ho sia 1.1.1.1 sia che quelli 172.64.36.2 che è quello suggerito da cloud fair stesso così tutti i miei device quando io sono collegato alla rete si utilizzeranno appunto il dns di cloud fair se io vado qui mio ip.it vedi che questo è il mio indirizzo ip se io attivo l'applicazione di cloud fair che in questo momento tu non puoi vederla ma dice connected e provo ancora a fare mio ip vedi che l'indirizzo ip è cambiato quindi tecnicamente io sono protetto contro gli attacchi dos perché perché se un malintenzionato provasse a come dire attaccare questo ip in realtà attacca l'indirizzo ip di cloud fair e non il mio reale ora facciamo una piccola prova se io provo a fare net speed qui vedi che la mia connessione a net speed gli risulta cloud fair quindi io provo a fare un test di velocità e la mia connessione viaggia solamente a circa 300 megabit dico circa perché in realtà non è la vera velocità della mia connessione internet quindi adesso vado a disattivare l'applicazione di cloud fair lo vado a fare subito disattivata faccio aggiorna così mi ricarica la pagina e adesso qui c'è il mio indirizzo ip reale se io provo a rifare adesso lo speed test dovrei arrivare circa 900 megabit almeno spero ok questa è la mia connessione internet circa 1 gigabit veramente è 1.2 giga ma comunque questo è il massimo della velocità che riesco ad ottenere circa 880-900 megabit sicuramente dipende dal server con cui provo a fare il test e dal traffico che il mio computer o i device collegati a casa stanno effettuando quindi come vedi la perdita di velocità è veramente alta usando l'applicazione di cloud fair però tuttavia dipende sempre di che cosa stiamo proteggendo e ripeto è gratuita quindi se io magari vado su siti che reputo pericolosi sinceramente preferisco perdere un po' di velocità che farmi fare un attacco di DOS per esempio sul mio indirizzo ip reale poi magari quando ho finito io ritorno sulla mia connessione normale per il momento è tutto e ti ringrazio di aver guardato questo video grazie a tutti